Siamo con Cuomo, che cosa si fa? Due commenti a caldo su questo match a primo tempo, finito 2-2, uno contro una squadra forse che sulla carta poteva essere un po' più pericolosa. Mi ha piaciuto bene, tutti i compatti dietro, poi sulle ripartenze siamo riusciti a fare un gol con D'Alessio, mentre l'altro, sempre D'Alessio, sono bravo a metterlo da dentro la punizione. È una realtà difficile, anche se siamo in spirità numerica, loro sono decisamente più forti tecnicamente, però ce la giochiamo. Ok, su quale vostro punto a favore potete giocare questo secondo tempo? Giochiamo in difesa e poi ripartiamo con Marco che ci ha approfondito. Ok, in bocca al lupo.